è stato licenziato in tronco per aver chiesto due giorni liberi dal lavoro che gli servivano per andare in romagna a spalare il fango ed aiutare gli sfollati dell'alluvione un gesto di solidarietà costato molto caro a marco santa caterina universitario 24 anni vicentino che dall'oggi al domani è stato lasciato a casa dal titolare della pizzeria dove faceva il rider a chiamata nei weekend quando il ragazzo dopo un sabato una domenica passati con gli stivaloni e la pale in mano si è ripresentato in pizzeria a tiene vicenza gli è stato detto di andarsene perché ha raccontato al giornale di vicenza non c'era più bisogno di me ma lasciare senza parole santa caterina è stato il messaggio con il quale il titolare lo ha liquidato su whatsapp non farti più vedere